Ciao gente, ancora una volta benvenuti in questo nuovo video penultimo episodio di Ninja Gaiden 3 Razor Age Raga, questo è il terzo tentativo che provo a fare questa lotta che è veramente difficilissimo Quindi spero che questa volta riesco Ok, però cambia l'arma Ok, però così in corsa Così non si riesco forse Beh, sembra che sta andando bene, sembra al momento Mi scusa se vedete il boss luminoso ma non posso farci niente È un tipo illuminante, capita Aiuto! Se non mi stacca con un spede di energia Il ladder, ti mancavi il ladder, ma dai! Vai, diritto in faccia Oh oh, ho perso l'arco Come ti permetti, scusami? Va bene, uomini che mi attaccano Tante Vabbè, i cattivi giocano sempre sulle ali Poi li sempre Nooo, almeno ho la mozza per ripetare la vita in caso, eh? Quindi Quindi, va bene Va bene Vabbè Vabbè Beccati questo No dai Sì 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 Ti taglio la testa Non d'emostraire Guarda Taglio Aia Mancata Oh Guarda ora chi c'è Il nostro alchimista Il fratello Che adesso Non è più controllato dalla maschera Ah, e ricorda anche tutto, eh? Bene Ma Chi c'è non mi ha fatto sopravvivere? Non era tipo Affondato nell'oceano? Ma So much Ma You And Connor And Sia Everyone I just wanted to bask in that spotlight To wear that mask And see the man through his eyes Did you love her? My sister? Ha No If you do nothing The world will die If you kill the goddess Gandalf will die All things Come to me Hmph Three, four, three, farts Eh, cos'è? Un vampiro alla fine? Non lo so Beh, sì Più o meno lo sei Sei vivo Più o meno Ecco appunto Beh, lei non la vedo molto ferita, eh Insomma Però Meglio Se ritorna alla base E meno così Non si feri Non Non ha ferite Ecco Non subisce ferite Ok Ce l'ho fatta comunque A farcela Batterlo Suo fratello Ok Andiamo con lui Verso Verso Kana Aspetta dove Devo andare Sei il suo ninja Ok di qua Andiamo Ma Si Tranquillo Diggielo Diggielo Stato non è che Ti ha causato Troppi problemi No Ti ha solo un malietto Con la tua Senta Spada Del drago Veramente Non ha fatto Niente Di che Fa morire Fa morire Ho problemi Nella linea Con la Pivote Notate A caso Vabbè Ora non lo dico Con queste cose Fa muore Poi Poi a caso Sta capitando Questa cosa E là Che combricola è Ecco Fatti la parte Che li ha amato Tutti Io in pochi secondi Raggiungiamo Canna Va Vabbè Se poi Non ho Ho I problemi A raggiungerla Posso Dire Che finisco L'episodio E gioco In questo episodio Qua O il prossimo Ok Niente più Utilite di rete Bene Guarda 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 E adesso Lui Ce la sta cavando Meglio di me Ne sono convinto Vai così Che non sono Che non sono Morti Per i Contra Stack Di Yabusa Che Bellissimo Ma Vabbè Cavolo Aiuto Vai Mi abusa Taglia Tutto Stack Devo cercare La checkpoint Così Posso Tutta la vita Perché L'arte Me la voglio Tenere Voliamo Insieme Il ninja E il passero Il passero E il ninja Anche No Rio Più Un'aquila Un palco Ok Come ho Questa la vita Non l'avevo Visto Bene Ho fatto Casino Totale Ma Mori Maldito Maldito Quelle ali Ce le taglio E' chiamata E' chiamata E' chiamata E' chiamata Perchè E' chiamata Lui Ha 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 Usato Mai Disconnete Un Lui Deve morire Per forza E' chiamata E' chiamata E' purtroppo Fatto Continuiamo Anche se Anche se Mi sa Adesso Devo Affrontarlo Vediamo Se devo Affrontare Lui Adesso O Ci sono Altri Mostri Da battere Such Strength Even While Cursed E' chiamata Cursed Let's Finish This Yes Pertor Pertor Viglia Ah 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 Oh Almeno Lui Era la vita E' tipo Infinita Io no Ma che rumbo le fa qui sto? Ok, lontano Non venite da me? Ah giusto non ho più l'arco Peccato E vieni qua Vabbè intanto mi prendo questo che non ho preso Scaladei Ok, ti afficherò Ok, vabbè l'hai capito Andiamo qua la parte va? E con la parte posso fare attacchi di stampa Bellissimo Con la testa Colpo devastante Ehm Vabbè Facciamo stare Ok Ok, io scalo e lui come fa? Ah, è già qua E c'è il corpo Oh no Il ritorno delle bestie odiose Ma morite una buona volta Ecco Questi Pensate che non sono boss ma sono mini boss Comunque stanno sempre con quelle balle eh Sempre Oh Dai che mi manca solo una Ah Guarda Bene Ok ragazzi E' vero che questo episodio di Ninja Gaiden Meglio terminato qua E il prossimo sarà Sicuramente l'ultimo Quindi ci vediamo all'episodio finale Ciao